Vede, oggi salutiamo la legge di stabilità della svolta, secondo il Presidente del Consiglio. Stamane c'è ancora una volta deliziato di una sua dichiarazione ottimistica e speranziosa, ma soprattutto ci dice che lui taglierà le tasse per 18 miliardi di euro. Qualche mese fa ci aveva detto che l'avrebbe fatto in legge di stabilità, oggi invece si dice che lo farà. Abbiate fiducia, io taglierò le tasse per 18 miliardi di euro. Vede, il Presidente del Consiglio spesso durante i suoi annunci si dimentica però di fare due conti rispetto all'attività di governo del suo partito, perché guardi, sono passati lasciando perdere il sostegno del Partito Democratico allo scellerato governo Monti, che tanto male ha fatto questo Paese. Da quando il Partito Democratico governa senza alibi e giustificazioni, abbiamo avuto due Presidenti del Consiglio, il primo Enrico Letta, cacciato poi dal Segretario del Partito, che guarda caso è diventato suo successore. Il Governo Letta è durato nove mesi. Secondo gli ultimi dati che ci hanno rilasciato, e un dato su tutti, quello della CGA di Mestre, il Governo Letta ha contribuito ad aumentare le tasse in questo Paese per 2 miliardi e 400 milioni. Con l'introduzione della Tasi, meno detrazioni IRPEF e polizia a vita, aumento dei bolli, accise tabacco, alcolici, carburanti, imposte sul registro, e poi siamo arrivati al Presidente del Consiglio, all'uomo dei miracoli, Matteo Renzi, che è arrivato alla Presidenza del Consiglio, ha tagliato l'IRAP e poi l'ha rimessa retroattivamente, ha tagliato alcune esenzioni per l'Imu, è passato dal 15 al 20% il contributo unificato, dal 20 al 26% la tassazione sulle rendite finanziarie, dall'11 al 20% la tassazione sui fondi pensione, dal 5 al 77% la quota imponibile per gli enti non commerciali, dall'11 al 17% la rivalutazione del TFR, dal 4 all'8% la ritenuta per gli accrediti dei bonifici sulle ristrutturazioni sul risparmio energetico dei cittadini e poi, nel fantastico rapporto della trattativa con l'Unione Europea, impone in legge di stabilità una clausola di salvaguardia per il 2016 che più o meno conta circa 20 miliardi di euro di nuove tasse. L'ottimismo del Premier si scontra anche con i dati macroeconomici, tutti peggiorativi rispetto alle previsioni del 2013 e l'unica consolazione che abbiamo oggi è che non peggiorino i dati rispetto alle previsioni nel prossimo anno del 2014. Il PIL, se tutto va bene, farà un calo, sarà certificato almeno 0,3% quest'anno, per cui si conferma uno stato recessivo del Paese, nonché depressivo. Intanto è aumentato il debito pubblico, intanto è aumentata la disoccupazione, raggiungendo un massimale storico del 13,2%, ricorso storico per questo Paese. Ma il Presidente del Consiglio dichiara che il bicchiere è mezzo pieno. Quel bicchiere mezzo pieno probabilmente sarà stato pieno di alcol. Marchette ancora a Roma Capitale, tanto ben amministrata dal Sindaco Marino, e i lavoratori socialmente utili, che prima di essere, prima sono stati stracciati, il finanziamento è stato stralciato e poi è stato rimesso dal Partito Democratico e dal Governo. Ci dice che darà il TFR in busta paga, ma il metodo con cui un lavoratore sceglie di avere il TFR in busta paga è una tassa nuova, è una tassazione nuova, perché non sarà più a tassazione separata ma ordinario, per cui l'imposta e l'aliquota aumenteranno sicuramente. Ci ha detto che ha fatto misure per le imprese, per nuovi investimenti delle imprese, dimenticandosi totalmente, se non per vessarle e tassarle, della piccola e media impresa, che è sì vero che non è quella che fa gran parte del prodotto interno lordo di questo Paese, che al momento è meno dello zero, ma è quella che mantiene e tutela un tessuto sociale che non riconoscerlo sarebbe gravissimo e potrebbe cambiare anche alcune situazioni socioculturali. Taglia gli enti locali impressionanti, col Job Act ci dice che porterà più occupazione, ma tutti sappiamo che se non abbassiamo le tasse delle imprese il circuito economico non riprende, per cui non ci saranno né investimenti né occupazioni, ma nel mentre ci delizia di alcuni nuovi fondi per gli immigrati. Alcuni nuovi fondi per gli immigrati che raggiungono 190 milioni di euro per il fondo di accoglienza. Mantiene azzerato il fondo delle espulsioni, confermando che in questo Paese non si può più espedere nessuno. Conferma la social card anche per gli immigrati e poi abbiamo questa invenzione del bonus bebè, che invenzione tra l'altro non è, che non tiene conto di una considerazione, cioè di una proposta che noi abbiamo fatto nella discussione della legge di stabilità, che è un semplice criterio di residenzialità, perché se non inseriamo quello, anche questi fondi andranno tranquillamente a finire agli immigrati e non ai poveri italiani. Scelta politica rispettabilissima da un lato, ma che noi non riteniamo né equa né giusta in una situazione di disagio sociale ed economico come quella che stiamo vivendo. Ha nascosto in un cassetto, forse nello stesso cassetto dei suoi due predecessori, il federalismo fiscale. Lo ha tramutato con tagli impressionanti agli enti locali, tagli che colpiranno soprattutto gli enti virtuosi, regioni e comuni, che non saranno più in grado di dare i servizi essenziali ai propri cittadini. E qualcuno dovrà essere in grado di rispondere a questa nuova emergenza, soprattutto dal punto di vista dei servizi sociali. Ma in questo Paese si è confermata una situazione di totale insicurezza, di tutela dell'illegalità, perché i provvedimenti di questo Governo tutelano l'illegalità, consegnano diritti ad alcuni e doveri ad altri, solo ed esclusivamente. Non c'è più un'equità sociale, siamo in una situazione dove gli stranieri da noi fanno qualsivoglia cosa e hanno qualsivoglia diritto, anche economico, e gli altri nostri cittadini hanno solo ed esclusivamente doveri per compensare la situazione. Qualcuno ha parlato di scontro sociale del Presidente del Consiglio con le parti sociali, qualcun altro ha parlato di scoltere aperti con l'Unione Europea, con la minoranza del suo partito, con le opposizioni, per lo meno una parte delle opposizioni. E oggi ci dice che, ieri ci dice che i contestatori si stancheranno. Guardi Presidente, io credo che l'unico conflitto che ha in essere il Presidente del Consiglio sia con se stesso, perché nel momento in cui fa un passo fuori da Palazzo Chigi e si rende conto della realtà e dei danni che sta combinando, gli cade quell'immagine di supponenza, arroganza e uomo dei miracoli con la quale si è presentato e con la quale continua a fare annunci senza dare la possibilità a nessuno di dibattere e discutere dei provvedimenti che porta qua o degli stessi provvedimenti che annuncia. Con la stessa capacità e velocità con la quale è arrivata la Presidenza del Consiglio, noi pensiamo che comunque ci sia una giustizia e la giustizia preveda che con la stessa velocità lui vada a casa e noi speriamo che ci vada il prima possibile, perché l'unica cosa che ha incrementato Matteo Renzi in questo Paese è la povertà e per noi è una situazione inaccettabile e crediamo oggi, dopo aver fatto miriadi di proposte e tentativi di confronto anche con il Presidente del Consiglio, pensiamo che l'unico modo per fermare l'aumento della povertà in questo Paese sia che il Presidente del Consiglio e le sue soluzioni come uomo dei miracoli possano togliersi dallo scranno di Premier di questo Paese, perché non c'è altro modo, non c'è altra possibilità di confronto. Noi in Aula viviamo situazioni sui quali ogni singolo provvedimento portato da Matteo Renzi che pur non rispecchiando gli annunci che lui intraprende, la maggioranza e il Governo decidono di mettere la fiducia, evitando qualsiasi tipo di discussione. Chiudo, Presidente, facendo un unico invito come gruppo di opposizione al Presidente del Consiglio e non è quello di riaprire un confronto, non è quello di evitare annunci o di evitare false speranze, ma è quello di dimettersi e di andare a casa.